Una chiesa bellissima per un'inaugurazione di una mostra altrettanto bella. Sì, questo è lo spirito, utilizzare i nostri spazi bellissimi che abbiamo in città con le nostre professionalità. Questa mostra viene fatta e curata da Arezzo Fashion attraverso il liceo artistico di Arezzo e permette di mettere in mostra delle opere restaurate dei primi del Novecento o ultimi Ottocento e riguardano i vestiti di una bambina, di una ragazzetta della Val di Chiana che sono stati donati proprio al liceo artistico e ci permetteranno di far vedere non solo la bellezza di questi abiti ma anche la professionalità di chi ha curato il restauro. Il liceo artistico può mettere a disposizione veramente tante competenze e tante professionalità unito in questo al consorzio Arezzo Fashion che io appunto rappresento che è una realtà ormai consolidata nel nostro territorio e riunisce 26 piccole e medie imprese e una grande impresa che è Monna Liso, non dimentichiamolo. E che quindi dà proprio questo grande apporto di competenze artigianali, competenze artistiche per l'appunto, artigianato artistico anche. Questo potrebbe essere l'inizio di un viaggio importante, soprattutto questa collaborazione con liceo artistico perché si potrebbe andare verso un mondo diverso dove gli stessi ragazzi possono essere messi in evidenza. Certo, questo è un periodo in cui a mio parere troppo si pensa a quelle che sono le risorse finanziarie, economiche, talvolta si trascurano quelle umane. Invece questa realtà di consorzio e liceo unita al comune secondo me può veramente rivalutare il territorio dal punto di vista anche della creatività giovanile, di quelle risorse umane che ci sono e che si devono affermare, devono andare avanti e che costituiscono veramente la ricchezza di un territorio come quello retino.